Ascoltare il mare, questo è il titolo del forum che si concluderà quest'oggi presso l'Aula Caldora dell'Università della Calabria a Rende, promosso da un nuovo corso di laurea in tecnologie del mare e della navigazione del Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente dell'Università della Calabria e dell'Associazione Mare Pulito Bruno Giordano con il patrocinio della Regione Calabria. Il forum alla prima edizione è organizzato con il supporto tecnico del Polo di Innovazione della bioedilizia Green Home e in collaborazione con gli ordini professionali degli architetti, degli avvocati, degli ingegneri e dei periti industriali della provincia di Cosenza. Il forum ha come obiettivo principale quello di mettere a sistema tutti gli utenti a valutitolo connessi con il mare e la sua economia come ambiente, energia, innovazione, ricerca, nautica, portualità turistica e commerciale, pesca, turismo, cultura e formazione per far diventare la Calabria protagonista in Italia e nel Mediterraneo attraverso una strategia comune. Per raggiungere tali sinergie occorre il contributo dei principali rappresentanti delle istituzioni nazionali e regionali, civili e militari. Presente anche il comandante della direzione marittima di Reggio Calabria, l'amiraglio Giuseppe Sciarrone, che ha voluto ricordare quanto sia importante cercare di venire i danni provocati dall'erosione e dall'abusivismo alle coste calabrese. Ho detto poc'anzi che l'esame che è stato fatto dai tutti conferenzieri è quello che bisogna coniugare non soltanto l'attività repressiva che noi, l'Arma dei Carabinieri, anche la Guardia di Finanza e le Polizie di Stato svolgiamo sui litorali. Avete visto che il dato degli illeciti è presso a poco costante, degli illeciti penali riscontrati, anche perché gli ambiti di edificazione abusiva sono sempre più limitati. Quindi da un lato va sempre perseguita l'attività di contrasto a forme di illegalità, ma parallelamente va attivata una forma di politica gestoria da parte delle amministrazioni comunali. Il dato è che più della metà dei comuni calabresi non ha un piano di spiaggia. Questo certamente limita lo sfruttamento e costituisce una forma di arretratezza che la Regione Calabria deve superare. In questo non posso che ringraziare il Presidente Occhiuto per il sostegno alla nostra azione e per quello che finora sta facendo. Necessaria dunque la collaborazione di tutti per dare maggiore certezza nel futuro, a cominciare dal nostro dilemma se il mare calabrese è pulito oppure no. Io ho la mia visione. Il mare calabrese per me è perfettamente idoneo. Il concetto del pulito è un concetto molto particolare, perché molto dipende anche dalla sensibilità, cioè l'alga, la presenza algale, che pure può dar fastidio, molte volte come l'Arpagal ha evidenziato, non sempre è sinonimo di forme di inquinamento. Ora devo dire questo, che in questi anni l'attività da parte dell'Arpagal e da parte delle forze di polizia, Arma dei Carabinieri, nostra, il Generale dei Carabinieri parlerà appunto di un'operazione congiunta che abbiamo svolto, come voi ben sapete, quest'estate. Lo sforzo è stato consistente. Debo dire però, e non è una critica, che è sempre bene che se ne parli ed è sempre bene, quindi va ringraziata la stampa che pone all'attenzione talvolta questo problema. Io ho anche esperienze di altre regioni, nelle altre regioni non sempre la stampa usa questo pungolo nei confronti delle amministrazioni e questo certamente aiuta noi forze di polizia perché l'attenzione rimanga alta. Però questa attenzione non deve mai trascendere nell'allarmismo puro perché un allarme non c'è rispetto al dato nazionale.